Allora, la situazione è la seguente. Ho passato la giornata fuori e sono stata bombardata, letteralmente bombardata da persone che mi hanno chiesto Sara, l'hai visto? Ti sa di Gimini? No! Sono mezzanotte e 46 del 5. Capite che sono stata fuori fino ad adesso senza vedere niente, niente. Mentre la gente continuava a mandarmi le foto, Gimini, biondo, per terra steso, buttato all'indietro, non lo so. Lo sto vedendo adesso, perché tipo, non so quante persone mi hanno scritto per chiedermi se io avrei fatto la reaction a questa cosa. Tutti Sara voglio la tua reazione, ma mio Dio lo voglio vedere perché mi hanno detto che c'è solo Gimini. Io non ce la faccio. Sto mettendo play, sapendo che la mia anima lascia il mio corpo. Io non lo guardo, ma lo blocco. Non è vero, lo blocco. Ho già paura. Messa questa circle. Io sono del maglioncino. Le scene del letto non le devono fare. Sembra che la pelle è così liscia, ragazzi. Tant'è buono che ti... Stalotte come dormo io. Adesso trip. Ma dove è piccino? Vorrei, ma non posso. Oddio, oddio. Tu piani. Che grazie. Questa cosa è una figata. Oddio che bella scena. Cos'è il calico cat? Questo è il calico cat? Anche io voglio essere il tuo calico cat. Quella sono lì prima che si butta. Eh, quella sono lì adesso. Mi butto. Stessa roba Matrix. Questo ridere sta a cronare la casa addosso e ride. Mi posso affogare il mare che sta là? Non so, sorride così. C'è solo la piani. Scusa, mi spostiamo la torre. Mi puoi amare quando vuoi, Jimin, lo sai? C'è proprio tanto. No, no, raga. Ma che è sta cosa? Cos'è st'ultimo primo piano, raga? Sono turbata nell'animo. Il quarto, altre dieci volte.